Non mi posso credere, non mi ha sentito una tre cascherina, aspetta. È stata troppo complicata. Sto andando a prendere il treno, non me l'ha aspettata. Sto andando a prendere. Un po' con la cosina di lavoro mi hanno preso. Di un'acqua della teoria? No, anche. È un cellulare, c'è l'altro, facciamo qualcuno. Ce la facciamo adesso. Non volete forzare il treno. Io non me l'ha aspettata. Devo fare a fare il treno. Vai, 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 hai fatto il treno. Vieni, 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 vieni. Non ho una pausa, non ho una pausa. Ci arriviamo, ci arriviamo. Non ti passo bene. Ciao Ciao Lucchalu E state appena su Bye Buonasera Buonasera Sono di San Saleto, eh? Siamo vicini Siamo dicendi Buonasera Siamo vicini Buonasera Ciao Ciao On per sotto Buonasera No Grazie a tutti.